E' da attualità la situazione di altri lavoratori, quelli connessi al trasporto scolastico, la situazione lì come ci sono state le difficoltà, si vive sempre sul filo del rasoio oppure una situazione risolta? E' una situazione nella quale l'amministrazione comunale è sempre stata assolutamente chiara. In questi giorni, precisamente ieri, abbiamo liquidato le fatture di gennaio, quindi siamo a liquidare in poco più di 15 giorni quelle che sono le aspettanze dovute e quindi ci aspettiamo che la ditta con la stessa serietà messa in campo dall'amministrazione tuteli i propri lavoratori e quindi paghi loro le aspettanze, gli stipendi e tutto quanto dovuto. Qualora questo non dovesse avvenire, qualora ci dovessimo confrontare con un ennesimo ritardo, l'amministrazione non esiterà a mettere in campo tutti gli strumenti a tutela di quei lavoratori per un servizio pubblico, essenziale, di straordinario valore che si basa sulla professionalità di questi lavoratori che quindi meritano tutta la nostra tutela e quindi sarò al fronte con loro per garantire appunto il pagamento in tempi celeri degli stipendi.